Tornano a soffiare i venti della polemica Chieti sulle indennità dei consiglieri e degli assessori. Dopo aver nuovamente spiegato che il ricavato del taglio delle stesse indennità andrà in un fondo, il sindaco del capoluogo teatino Diego Ferrara ha già aperto un conto corrente ed è ora pronto a mettere nero su bianco il tutto in una delibera che verrà presentata in Consiglio Comunale. Non ho fatto altro che ribadire la posizione mia e della giunta, ovvero sia che la prima delibera riguardante i nostri emolumenti, c'era stata una leggerezza nella delibera per la quale noi avevamo deciso di devolvere il 7% a un fondo di beneficenza, però non l'avevamo scritta esplicitamente sulla delibera. Poi ho detto agli assessori che avremmo a breve fatto una nuova delibera che metteva a posto tutto e sanciva definitivamente la destinazione di questo 7% e quindi pensavo e penso che tutte le polemiche avrebbero potuto finire lì insomma e spero che finiscano qui. È pronto a mettere nero su bianco quello che ha detto poi? Ma assolutamente sì, siamo tutti concordi nel farlo, assolutamente.